Musica Leggerò il testo che vi ho inviato in Marco a capitolo 9 dal versetto 42 La parola di Dio dice Dove il benvenuto a tutti quelli che ci seguono A un saluto a Rosaria Scafuro Che ci segue sempre fedelmente a casa E anche a fratello Bruno Raro Dio di benedica A tanti che ci seguono Ma leggiamo la parola adesso Che dice così E chiunque avrà scandalizzato Uno di questi piccoli Che credono Meglio sarebbe per lui Che gli fosse messa al collo Una macina da mulino E fosse gettato in mare Se la tua mano ti fa cadere in peccato Tagliala Meglio è per te entrare Monco nella vita Che avere due mani E andartene nella genna Nel fuoco inestinguibile Dove il verme loro non muore E il fuoco non si spegne Se il tuo piede ti fa cadere in peccato Taglialo Meglio è per te entrare zoppo nella vita Che avere due piedi Ed essere gettato nella genna Dove il verme loro non muore E il fuoco non si spegne Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato Cavalo Meglio è per te entrare con un occhio solo Nel regno di Dio Che avere due occhi Ed essere gettato nella genna Dove il verme loro non muore E il fuoco non si spegne Perché ognuno sarà salato con il fuoco E ogni sacrificio deve essere salato col sale Il sale è buono Ma se il sale diventa insipido Con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi E state in pace Gli uni con gli altri Amen Allora il Signore Gesù Nella sua grande capacità Nella sua grande sapienza Quando predicava Insegnava e dava degli insegnamenti molto pratici Molto reali Molto concreti Non solo parlava delle cose celesti Ma parlava delle cose terrestri Perché voleva insegnare la sua Chiesa A vivere un cristianesimo reale Potente Continuo A non stare sempre a guardare Come fecero i discepoli Alla sua ascensione In atti al capitolo 1 Guardavano verso l'alto Erano così estasiati Che guardavano sempre in alto Ma dovette Venire un angelo Per dire A chi state guardando Colui che avete visto salire Ritornerà E lo stesso anche Pietro Giacomo e Giovanni Sul monte della trasfigurazione Noi spesso tendiamo a isolarci A guardare sempre in alto Laddove il Signore ci costringe A guardare in basso E a vivere in basso Tant'è vero che dal monte Della trasfigurazione Disse scendiamo a valle Quindi dobbiamo imparare E dobbiamo riflettere Sul fatto di come il Signore Ci tiene Alla nostra vita a valle Sicuramente la nostra vita in cielo Non è in discussione A meno la mia Perché il giusto È appena salvato Quindi io dico sempre Che ognuno deve dire a se stesso Questo Io posso garantire per me Ma non per nessun altro Ognuno deve garantire per se stesso Perché alla fine La mia garanzia è Gesù Cristo Amen Quindi io non Non ho la garanzia di un fratello Ma ho la garanzia di Gesù È chiaro? No È così Ognuno di voi Deve acquisire Questa consapevolezza Della salvezza E man mano che l'acquisite Vi renderete conto Del timore che acquisirete Ogni giorno Da lì si comprendono Le parole di Paolo Quando dice Sono venuto in mezzo a voi Debole In Prima Corinzi 2 Dice ma come è possibile Debole Tremante Un uomo di quello Spessore Debole Tremante Perché davanti alla conoscenza Alla comunione Che tu hai Con lo Spirito Santo Con il Signore Non puoi fare a meno Di avere questa 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 dedicazione Questo atteggiamento Che ti porta proprio ad avere Questo sacro timore di Dio E di stare attento A quello che dici Anzi Io prego sempre Signore Metti un guardiano Sulla mia bocca E anche nel mio cervello Perché voglio cercare Di non dire Cose estremamente personali Anche se qualcosa di personale Esce sempre D'accordo Solo Gesù era perfetto Allora Però cerca In modo che io Non faccia danni Ma che possa edificare Consolare Esortare Correggere Santificare La tua chiesa Il corpo di Cristo Ed aiutare A chi non crede A credere In te Che sei l'unico Signore Salvatore Ora il Signore Ripete per tre volte Perché Questa è una domanda Che risponderò Alla fine Che se mi dovessi Dimenticare Mi dovete ricordare Perché Per tre volte Parla Il loro verme Non muore Il fuoco non si spegne La genna Voglio partire Prima dall'inizio Dall'inizio Innanzitutto Il Signore In Matteo 11 E anche in Matteo 5 Rende lode A Dio Perché ha rivelato Queste cose Ai piccoli fanciulli A me I piccoli fanciulli Sono quelli Che da pochi mesi Da qualche anno Frequentano la chiesa Perché È naturale Che le esperienze Della vita Sono importanti Le esperienze Che fai Con i capelli bianchi Sono importanti Nel lavoro Noi ferrovieri Più esperti Aiutavamo i meno esperti E così Anche in medicina In qualunque campo C'è un'esperienza Che tu fai Ma nella fede È diverso Puoi avere anche 50 anni di esperienza Puoi essere Uno dei migliori Tecnici O amministrativi O primari Non lo so Quello che sei Nella chiesa Sei un bambino Sei un piccolo Fanciullo Perché si cammina Per rivelazione Per acquisizione Mediante ubbidienza Alla grazia di Dio Chiunque entra Può avere anche 70 anni E può essere L'uomo più esperto Del mondo Di qualunque cosa Davanti a Dio È un piccolo Fanciullo È un neofita È appena nato E deve Forse ancora Deve nascere di nuovo E quindi I piccoli Fanciulli Non sono Solamente I bambini Ma sono Coloro Che si Approcciano Alla fede Che nella loro Gioia Di testimoniare Di riconoscere Il Signore Come salvatore Si vogliono Battezzare Che partecipano Gioiosi E che questa gioia Io spero Che voi possiate Sempre conservare Perché la gioia Dell'Eterno È la nostra forza A me Chi crederà A un cristiano Che è triste Chi crederà Quando annuncerete L'Evangelo Parlerete a qualcuno Che vi sentirà tristi Per quanto possiamo Essere tristi Le sofferenze Del tempo presente Non sono da paragonare Alla gloria Che deve essere Manifestata A me Quindi possiamo gioire Del premio Delle ricchezze Di cui il Signore Ha preparato Per ognuno di noi E ci sono cose Che i nostri orecchi Non hanno udito Dice la parola E che i nostri occhi Non hanno visto Che Dio vuole manifestare A coloro che l'amano Quindi dobbiamo Industriarci Applicarci Ad amare Lui A desiderare Lui A fare di Gesù Il centro Della nostra vita Perché Dio Onora coloro Che onorano il Figlio Onorare Gesù Cristo In ogni momento Della nostra vita Nei gesti Nelle parole L'applicazione costante Della mente Del carattere Della volontà A ciò che Dio Vuole da noi Guardate fratelli Le benedizioni Del Signore Sono vicino a noi Ma devono scendere Su di noi E dobbiamo consentire Allo Spirito Santo Di agire Su di noi E dobbiamo farlo E qui entra in campo In gioco La nostra determinazione La nostra umiliazione La nostra rinuncia La nostra abnegazione La nostra sopportazione Ad ogni tentazione Gesù dice che chi Qua parla Dei piccoli Che credono Quindi sono piccoli Che credono In lui La Chiesa Da quando è nata Ma sto parlando Anche prima Che nascesse a Pentecoste Perché fu inaugurato A Pentecoste Con Davide Ma pure Con lo stesso Noè Con altri C'è stato sempre scandali Il problema Non sono gli scandali Perché ci sono E ci saranno sempre E come tu reagisci Allo scandalo E' semplice Io lo dico Sempre che è semplice Se un uomo Una donna Ruba Cade O fa qualunque Cosa di scanto La mia fiducia In Gesù Cristo Guai all'uomo Che confido Dell'uomo Posso rimanere deluso L'arco di 24 48 Una settimana Ma la mia fiducia In Gesù Ha detto il Signore Guardate a me E' vero A Pietro gli disse Guardi ai miei occhi Non affonderai Non posso Credere negli uomini E non posso Credere neanche In me stesso Io devo credere Al Cristo Che è in me stesso E tu devi credere Al Cristo Che è dentro di te E devi credere All'opera di Dio Che fa dentro di te Perché in me Dice la parola E lo ripeto Per me personalmente Non abita alcun bene Dice l'Apostolo Paolo Se in Paolo Se Paolo Diceva così Ancora più Posso dire questo Visto che sono Inferiore Sub inferiore All'Apostolo Paolo Posso dire In me Non abita alcun bene L'unico bene Che abita in me E Gesù Cristo E l'unico Perché io sento il bene E sento anche il male di me E sento quando il male Spinge istentivamente Perché il male Si produce da solo Non ha bisogno Di essere alimentato Il male E viene da fuori subito E' il bene Che va costruito E nei principi Che Dio ti mette E' quel principio Che ti fa capire Quando tu hai bisogno Di lui E lì entra in gioco La tua obbedienza Dice Sì signore Obedisco E faccio quello Che a me non piace Ma che a te piace Allora I piccoli fanciulli Possono essere scandalizzati Sì Perché chi è nuovo Nella fede E' più facile Perché si aspetta Da uomini di Dio Da donne mature Da uomini maturi Che certe cose Non le dicono Non le facciano Voglio dirti a te Che stai da pochi mesi Da qualche anno Che ti sei battezzato Battezzata da poco Non ti preoccupare Sbaglieremo Ma sbaglieremo Affinché la tua fede Sia fortificata in Cristo Non in noi A volte Dio Consente gli errori E degli uomini In modo che decadano I idoli Che ci costruiamo Affinché solo Cristo Venga innalzato A me Guardate com'è chiara Questa visione Io ce l'ho sempre Avuta chiara Questa visione E' vero Affinché la nostra fiducia E' in Cristo E' in Gesù La roccia Colui che non è mai caduto Non ha mai pensato a male Il Signore dei Signori Colui davanti al quale Ogni ginocchio si piegherà A me A me Guardate Io non attiro le persone a me Ma attiro le persone a Gesù A me Faccio come Fece quella santa donna Della madre di Gesù Fate quello Che lui vi dirà Io non capisco niente Non so So che però Gesù Mio figlio può fare qualcosa Il vino è finito Sta succedendo Può succedere Lo scandalo Mancherà vino Forse i due discepoli Hanno bevuto troppo Pietro Natanaere Erano troppi gli invitati Fa qualcosa Non ti preoccupare Che a te Che a me Prendete i vasi E il Signore ci pensò A trasformare l'acqua in vino Portate i vasi E il Signore li trasforma Venite in chiesa E il Signore vi trasforma Perché è la parola Che trasforma È la parola Che crea È la parola Nella tua vita Che si cimenta Che si scontra Con la tua carne E tu devi dire Sì Signore La tua parola è verità E che sia ogni uomo Riconosciuto a bugiardo È Dio sovrano su tutto A me Allora Per chi scandalizza I piccoli Certamente Il Signore vuole far crescere La fede di tutti E vuole anche Che le persone Vengano salvate Però chi fa scandalo Pagherà il suo prezzo Sarebbe meglio per lui Lo dice Gesù Non lo dico io Io mi sono spaventato L'ho letto tante volte Questo passo Ma mi sono spaventato Quando ho detto Si mette una pietra Al collo Guardate che Annegare è la cosa Più brutta È una delle morti peggiori Soffocare Annegare E quindi Fratelli Per piacere Non scandalizzate nessuno Non scandalizzate nessuno Perché una sofferenza Atroce Vi cadrà addosso È una sofferenza Spirituale E questo è qualcosa Di terribile Che io vorrei Che ogni Che ognuno Possa evitare Perché è qualcosa Che devi prendere Ti fa mancare Il respiro Quindi ti voglio Informare Di questo Di badare A te stesso Di badare A te stesso Va a finire Che se guardi Troppo gli altri Bada a te stesso Bada a te stesso Dice l'Ecclesiaste Bada Bada a te stesso Stai attento Dove metti i passi Quando vai È la casa Dell'Eterno Sia attento A te Che un altro Scandalizzi Ti dispiace Ma se scandalizzi Tu ne paghi Il pegno Allora Prendi questo Allora E poi il Signore Parla di tre arti Molto importanti Nella nostra vita La mano I piedi E gli occhi Ora Certamente Voglio farvi un esempio A tutti quanti voi Se io mi taglio la mano O mi taglio il piede O mi cavo l'occhio Il mio cuore rimane uguale Quindi il Signore Non voleva amputarci Non voleva Colui che ci ha creato Con due mani Con due occhi Ci ha creato In un modo perfetto A me Giusto? Quindi Non voleva Che noi ci facessimo Del male Noi non vogliamo Non crediamo Alle punizioni corporali Come quelli che si frustano Ricordati Che devi morire Non ti devi fare del male O quelli che vogliono espiare Facendo chissà Strascinando a terra Queste sono cose Di fanatismo Che Dio Non richiede a nessuno Dio chiede Che tu Dio richiede Che tu chieda Perdono a lui E che ti riconcili Col tuo nemico E chiedi perdono Anche a chi hai fatto del male E quel perdono Che conta No Tutte quelle scene Che non servono a niente Di dramma Che Dio Non chiede Il Signore sta dicendo Che per quanto Siano importanti I tuoi arti Quello che devi Devi purificare Sono gli impulsi Del cuore Sono gli impulsi Del cuore Che ti fanno vedere Lo sguardo Dice La purificazione Quello che il Signore dice Di cavare Di offrire Di estirpare Di recidere È la malvagità Che viene dai cuori È quello di dentro Perché Perché quello di dentro Ti può impedire Ti può impedire Di godere Di godere Dove cominciarono Ti voglio dire Il contrario Non posso negare Che questo non esista Esiste Esiste In Daniele dice Molti di quelli Che dormono Nella polvere Della terra Si risveglieranno Gli uni per la vita eterna Gli altri per la vergogna E l'eterna infamia E lo dice pure In Matteo 25 Il Signore Questi se ne andranno A punizione eterna Ma i giusti A vita eterna Amen Allora Io vorrei farvi Una domanda Allora innanzitutto Il Signore desidera Che noi non prestiamo L'Apostolo Paolo dirà Che Attraverso lo Spirito Santo I Romani sedi Non prestate Le vostre membra Al peccato Quindi le mani I piedi L'occhio Non le prestate Perché è un prestito Che facciamo Al tentatore Alle concupiscenze Ai desideri Immondi Sporchi Che abbiamo Nella nostra vita Alla superbia All'invidia Non le prestate Perché Lui vorrebbe Lui fa il suo Lui fa il suo mestiere Lui va attorno a noi Non va attorno A coloro Che gli appartengono Lui va attorno Ai figlioli di Dio Quindi quando ti senti tentato Sappi Che è normale Quando ti senti provocato Devi sapere Che è normale Quando ti senti perseguitato Anzi Rallegrati Beati voi Quando sarete perseguitati Perché vuol dire Perché vuol dire che sei degno Della fiducia di Dio Quando arriva la tentazione La vedi Mentre prima Quando tu vivevi Nelle tenebre Non la vedevi La vivevi La tentazione Adesso la vedi E quel fatto di vederla Ti assicuro E ti assicura Che appartieni a Cristo Stai nella luce Stai nella luce Rimani nella luce Questo perché La tentazione Che arriverà Non è mai più grande Della fede Di cui tu hai Perché Dio È un Dio buono Amen Amen Fratelli Non vi lamentate Delle tentazioni Esse sono Per far sì Che noi Combattiamo Il buon combattimento È un momento Dove dobbiamo Diciamo sempre Signore voglio crescere Voglio avere le tue benedizioni E allora È naturale Che tu devi avere Le tentazioni Le provocazioni Ricordati Che gli apostoli Ebbero molte benedizioni Ma ebbero Delle riprensioni Da Gesù Incredibili Voi mi siete di scandalo Disse a Giovanni e Giacomo Dice ma che state facendo Deve scendere il fuoco Per bruciare A Pietro Lo riprese più volte Vado e retro Satana Voglio dirvi Fratelli Se non ha Se Se Dio Non usa Un fratello O una sorella Per riprendere Per riprenderti O la tv O qualcuno Che ti parla O qualcuno Che sta parlando E mentre parla Uno riprende te Perché Dio Fa delle cose Straordinarie Magari io parlo Con lei E attraverso di lei Miriam capisce Va bene Sono cose che Dio Fa a volte Sono le migliori Correzioni Sono quelle indirette Perché non Non sei preso Nell'orgoglio Quando è diretta Perché il Signore Sei stancato Visto che te l'ha detto Tre o quattro volte Non hai capito Ma te lo dico direttamente Così Dio fa Va bene Allora Questo è affinché Ognuno di noi Possa crescere E cimentarsi Voglio terminare La mia La mia Riflessione Voglio anche dirvi Fratelli e sorelle Il verbo È che non muore Se volete Vederlo Su internet C'è una famosa Predicazione A cui io ho assistito A Fiuggi Da parte Di David Wilkinson Un caro servo Del Signore Che adesso È con lui Nella sua gloria Dice proprio così Il verbo è che non muore Lui ebbe una visione Di un uomo Sposato Che la moglie Invitava sempre in chiesa Non voleva andare mai E lui andò Un giorno andò Il pastore Predicò la parola Era per lui Sentiva che doveva Riconoscere il Signore Come salvatore Pentirsi dei propri peccati Rifiutò Andò a casa E morì Durante la notte Il pastore Racconta questa visione E dice che Lui si svegliava E si svegliò All'inferno In mezzo alle fiamme E rivedeva Sempre questa scena Rivedeva sempre Questa scena Del predicatore Perché il verme Che non muore Sta a significare Che chi rinuncia Al messaggio di Gesù Alla grazia di Gesù Al perdono di Gesù Chi rifiuta di pentirsi In questa vita Per tutta l'eternità Vedrà quante occasioni Dio gli ha dato E si penterà E sarà una rovina Per lui Sarà un tormento Continuo Per aver rifiutato Il Signore della gloria Comprendete che sofferenza Ma io dico a tutti quanti voi Perché il Signore Gesù Ripete tre volte Perché io non riesco Solo a immaginare La giustizia di Dio Ma l'amore di Dio Rivelato in Cristo Gesù Quando leggevo Questo passo Mi veniva in mente Mi sussurravano altre cose E dicevo Ma com'è stato buono Gesù Lui è buono Lui è venuto a morire Per noi È venuto ad avvisarci A dirci Perché noi L'inferno Non lo vedremo mai Scusate fratelli Ragionate un attimo con me Ragionate un attimo con me Questa è teologia pura Se noi andremo in cielo Vedremo mai l'inferno No Perché altrimenti Che gioia ci sarebbe E stare in cielo Quindi noi L'inferno Non lo vedremo mai Quindi il Signore Perché lo ripete tre volte Affinché noi comprendiamo Di quanta grazia Quanta bontà Siamo stati scampati Siamo sfuggiti Da lì da venire E dobbiamo avere la gioia Della salvezza E comprendere Che tutta questa rovina Che cadrà Su coloro che non credono Noi siamo stati scanzati Siamo stati Ci ha evitato tutto questo E come a dire una cosa Fratello Sorello Quante volte hai pensato Che hai evitato un incidente Quante volte hai pensato Che i figli tuoi Hanno evitato un problema Che una macchina Un minuto prima Un vaso cadeva Una pentola che cadeva Non lo so Qualunque di noi Fratelli Io già sarei dovuto morire Perlomeno Quattro cinque volte Nella mia vita Per tutte le cose Che mi sono capito E se ci riflettete Pure voi Parecchi di voi Pure E invece il Signore Ci ha tenuto in vita Ci ha liberati Dalla forza della morte Dalla paura Perché? Perché nella sua grazia Dovevamo camminare con lui E riconoscere Che lui è il Signore E capire Di quanta bontà Di quanta ricchezza E la gloria Di nostro Signore Gesù Cristo L'ha fatto per comprendere A noi E come dobbiamo Glorificare Dio Per le gioie Che ci sono preparate Per le ricchezze Della gloria Per incoraggiarci Agli uni agli altri E per dire con certezza Qualunque cosa ci sarà In questa vita Questa vita finirà Io andrò dal Signore Qualunque cosa può succedere Io andrò dal Signore Qualunque cosa ci succederà Il nostro scopo Il nostro fine Il nostro obiettivo Il nostro traguardo È di andare in cielo Per l'eternità Comprendete fratelli Questo per allegrarci Del fosso Lo dico in napoletano Che ci siamo scansati Comprendete Fratelli e sorelle Oltre a questo Aggiungo solo una cosa Quante volte Quante volte ancora Il Signore ci deve parlare E benedire Quante volte Tornando indietro Nella vista Quante volte ancora Quanti uomini Quante donne Quante persone Hanno pregato per noi Quante volte ancora Il Signore ci deve benedire Per glorificare il suo nome Io so che ognuno di voi Vorrebbe ancora tanto Dal Signore Aspetta delle risposte Ma fratelli e sorelle Incominciamo a lodarlo Per quello che ci ha dato Cominciamo a benedirlo Cominciamo a ringraziarlo E cominciamo anche A comprendere Che a volte C'è scelte Che abbiamo fatto Le abbiamo fatto Un po' Inavvertitamente E dobbiamo a volte Anche pagare il prezzo Di alcune scelte Sbagliate Ma che in tutto questo Anche nelle nostre Scelte Sbagliate Dio ci sosterrà Ci aiuterà A supportarle A sostenerle Ad andare avanti Noi abbiamo solo Una speranza Che è una certezza Di avvicinarci a Lui Di avvicinarci Avvicinati di più a Gesù Avvicinati di più a Gesù Avvicinati di più a Lui Parla di Lui Glorifica Lui Riempi la casa Dei tuoi canti Benedici le persone Che vivono con te Avvicinati di più a Lui Avvicinati di più a Lui E vedrai quanto Quanto bene Com'è bello stare con Lui Alla fine di questo capitolo Di questi versi che ho letto Parlano che ogni sacrificio Deve essere salato col fuoco Perché il fuoco purifica Il fuoco purifica E il sale preserva Il sale preserva Lo dico così Perché abbiamo bisogno Del continuo Che il fuoco sia acceso Nella nostra vita In modo che come partano Vi voglio dare un'immagine Che adesso mi sta venendo Avete mai visto le donne Quando litigano Ma pure quando si accendono gli uomini Come fossero scintille di rabbia Di ira È vero Quelle scintille E invece In quelle scintille E vedere come il Signore brucia Brucia tutte quelle Quell'ira Quella rabbia Quell'insoddisfazione Le raccoglie Lui Le raccoglie Lui E ci dà la grazia Della sua serenità Della sua pace Nella nostra vita Signore Io ho terminato Quello che volevo dire Abbiamo un grande Signore Non andremo nella Genna E se qualcuno di voi Ancora non ha fatto un patto con Dio Ancora non ha capito Che si deve ravvedere E deve riconoscere Gesù Come personale salvatore Se qualcuno c'ha ancora Appartiene ancora alle tenebre E vuole entrare nel regno della luce Si entra in un solo modo Credendo in Gesù Cristo E chiedendo perdono Delle proprie azioni malvagie Chiedendo perdono Delle proprie cattiverie Chiedendo perdono A Dio Dei propri peccati Perché il sangue di Gesù È l'unico che ti può perdonare e lavare